La Palla Nuoto non smette di regalare soddisfazioni sportive alla Liguria. Sono stati premiati dal nuovo assessore allo sport Matteo Rossi i ragazzi dell'Under 18 Palla Nuoto, che lo scorso dicembre sono saliti sul podio del primo mondiale di categoria in Australia. Un riconoscimento doveroso anche per i sacrifici delle società sportive Liguri, che, come ha ricordato il presidente Burlando, svolgono un'importante funzione sociale. È stato doveroso da parte della regione Liguria premiare questi ragazzi 7 su 13 che hanno vinto il campionato mondiale in Australia Under 18. Quindi sicuramente è un'esperienza per loro molto importante, ma il segnale è che la regione Liguria dal punto di vista della Palla Nuoto è sempre all'avanguardia. quindi uno sport storico che è nato qua e che continua ad essere fortemente radicato e sentito e che dà da sempre grandi campioni alla nazionale. Quindi a 18 anni, vinceremo un mondiale nel 18, oltre a fare i complimenti per uno sport molto faticoso, ha anche un po' di invidia perché pensa che sia un'esperienza bellissima, che hanno vissuto assieme, perché è uno sport di gruppo che dà qualità anche valoriale a questi ragazzi.